I contenuti proposti rientrano nel programma di valorizzazione del patrimonio storico del Parco Nazionale dello Stelvio. Questo territorio fu teatro di aspri combattimenti tra Regno d'Italia e Impero Austro-Ungarico. Il progetto intende descrivere i luoghi, le vicende e i manufatti legati alla Prima Guerra Mondiale. Facendo emergere aspetti poco noti del conflitto, ma soprattutto intende ricordare che la storia della Guerra Bianca e di tutta la Grande Guerra è colma di sacrifici inimmaginabili da entrambe le parti. Grazie.